Quattro giornate per scegliere il proprio futuro, quattro giornate per decidere cosa fare da grandi. Torna anche quest'anno Bassano Orienta, la manifestazione dedicata all'orientamento scolastico che fino alla prossima domenica apre le porte agli studenti con un occhio di riguardo a quelli che il prossimo gennaio dovranno scegliere la scuola superiore. 15 tra licei, istituti tecnici e denti di formazione professionale le scuole presenti quest'anno a Bassano Expo con un'importante novità. Quest'anno molto spazio a Bassano Expo che dobbiamo ringraziare perché avremo molto meno spazio per aziende ma molto più spazio per le scuole. Tutte le scuole avranno il doppio dello spazio l'anno scorso in modo che da una parte i genitori possono chiedere le dovute informazioni dall'altra i ragazzi avranno dei mini laboratori per tentare di capire al meglio le scelte che possono fare oltretutto agevorati da altri studenti che in questo momento stanno frequentando quelle scuole. Una scelta tutt'altro che facile, quella che ogni anno interessa a migliaia di ragazzi 7.000 quelli passati a Bassano Orienta nel 2017 e il consiglio per le loro famiglie rimane sempre lo stesso. Ascoltarli i ragazzi, cioè chiedere a loro a cosa loro piace quindi guardarli, osservarli, vedere dove manifestano passione, entusiasmo sia la scuola successiva sia il mondo del lavoro hanno bisogno di ragazzi con passione. Bassano Orienta è aperta domani pomeriggio nelle giornate di sabato e domenica con orario continuato dalle 9 alle 18.30.